Ehi, Geronimo, sei tu? Ma certo che sono io! Sai dove siamo? E come faccio? A saperlo, Trappola, ho gli occhi bendati! Che modi? Ehi! Io questo lo conosco, sei quel ratto che mi ha buttato nella spazzatura! Beh, sappi che la cosa ha infastidito parecchio, Geronimo! Preparati a scappare, sai? Aspetta che si liberi e te la farà vedere tu! Trappola, taci, si sta arrabbiando! Ah, va bene, sto zitto! Silenzio! Arrattone? Tieni quella bocca chiusa! Va bene, cugino, cercavamo solo di aiutare quel tipo, Marty, ma non lo conoscevamo bene e a un certo punto ci hanno catturato, poi c'era una nave, io ho trovato un osso di pollo, ho espresso un desiderio... Basta, chiudi il becco! Agli ordini! Arrattone! O ti dovrei chiamare Marty! Molto bravo! Come hai fatto a scoprirlo? Ho notato un po' di coincidenze, per esempio siete entrambi mancini e guarda caso tutti e due portate al polso lo stesso bracciale a strisce, ma è stata la macchia di formaggio sulla manica a convincermi del tutto. Allora, sono fratelli, giusto? No, non proprio. Oh, capito, sono gemelli! Trappola? Il suo piano era di rubare tutto il formaggio esistente a topazia, averne il controllo e portare i prezzi alle stelle! Aha! Allora non sono gemelli, ho capito! Devo proprio ringraziarti, Geronimo Stilton, senza di te le cose non sarebbero filate così lisce. Avrei già dovuto capirlo in quella bettolaccia da ratti, perché sei sparito proprio quando è comparso Arrattone. Ah, te l'avevo detto io! O no, invece, cioè, lasciamo perdere. Giusto per informazione, questa è la cisterna dove tengo la mia riserva di formaggio. E il formaggio dov'è, scusa? Ecco, dovevo immaginarlo. Direi che a questo punto gli Stilton non ci servono più. Non resta altro che dirsi bye-bye. Scusate, ma il sindaco mi sta aspettando. Vuole ringraziarmi pubblicamente per la mia offerta di diventare il nuovo fornitore di formaggio di tutta topazia. Se non fosse che adoro il formaggio, inizierei a preoccuparmi. Oh, dobbiamo riuscire a liberarci! Benjamin, stiamo continuando a girare in tondo. Manca poco. Hey! Sembrerebbe uno dei ristoranti di Marty. Salve, siamo un formaggio contro l'Ori. Non fate caso a noi. Probabilmente Marty ha usato il vecchio sistema idrico della città per far arrivare il formaggio ai suoi ristoranti. Ma perché l'ha fatto? Perché il sistema è veloce e nascosto. Chi vuoi che lo becchi là sotto? Bene, finalmente c'è campo! Non riesco a prenderlo! Prova tu! Sono quasi... Preso! Vuoi che blocchi la tostiera? No! Avvicinalo a me! Aiuto! Siamo nella vecchia cisterna e... Ma dove sono? È caduta la linea, ma ha parlato della vecchia cisterna. Sì, è nella parte vecchia della città. Su, corriamo! Lo sai, G? Devo dire che da un lato è una fifa felina. Dall'altro io adoro l'idea di essere dentro al formaggio fino al collo. Quindi come la mettiamo? Concentrati, trappola! Dobbiamo trovare il modo di tagliare le funi! Trovato! Se non sbaglio, ho ancora in tasca quella fetta a formaggio. Prova a prenderlo tu. Aspetta! Non così! Mi fa insolventi! Ah, basta! All'uscita, presto! No, no, è bloccato! Ecco, abbiamo ancora trappola! Non ci deve essere, abbiamo dovuto per uscire da questo posto! Speriamo non sia troppo d'arte! Spero sono più grande che... Ah, riuscire da questo posto! E' marfahrta di voglio rimiscere da questo posto! Speriamo! A presto!